Quattro persone sono state arrestate ieri a Rosarno per il furto di 22 notebook alla scuola Paolo VI di Gioia Tauro. Un'altra invece è sfuggita all'arresto ed è irreperibile. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, diretti dal capitano Gabriele Lombardo, hanno arrestato Gerardo Furfero di 23 anni, Michele Furfero di 52, Michele Circosta di 55 e Carmelo Gallucci di 25, che era già ai domiciliari. Non è stato invece catturato Giovanni Grasso di 25. Sono accusati a vario titolo di furto aggravato in concorso, porto e detenzione di armi, traffico e detenzione illecita di droga e sommersione di natante. Le indagini hanno preso il via dal furto di 22 notebook per un valore complessivo di circa 10.000 euro avvenuto nella centralissima scuola elementare di Piazza Duomo a Gioia Tauro nella notte tra il 21 e il 22 maggio 2016. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di individuare il veicolo con cui era stato commesso il furto. Da quella traccia si è sviluppata un'indagine che ha portato a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei cinque indagati. Così i militari hanno collegato tra di loro i principali sospettati e hanno accertato anche il coinvolgimento dei due furfaro nell'attività di produzione e coltivazione di una piantagione di marijuana costituita da quasi 4.000 piante coltivate in contrada Carmine a Rosarno. Su quel terreno già nel 2016 era stato arrestato in flagranza di reato Giuseppe Furfaro e il fratello Michele. Gli inquirenti hanno fatto luce anche su due altri episodi tra cui la cessione di una pistola da parte di Circosta e l'affondamento di un'imbarcazione a colpi di pistola avvenuta lo scorso anno nel tratto di mare davanti alla spiaggia di San Ferdinando ad opera di Grasso e altri soggetti non ancora identificati. In quell'occasione Grasso assieme ad altre quattro persone visibilmente ubriachi a bordo di un motoscafo hanno sparato contro un gommone facendolo affondare. I carabinieri e la capitaneria di Porta avevano fermato a riva Solo Grasso che è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Tutti gli arrestati in questo momento sono nel carcere di Palmi.